Sono ripresi i lavori del cantiere Pio Europa Battipaglia. È stato prontato il piano sicurezza per la normativa anti-covid e gli operai hanno potuto riprendere la loro attività dopo il blocco del prefetto di Napoli che emanò un'interdizione antimafia a carico di una delle società che facevano parte del gruppo. Quindi l'ATI è campiata ed il cantiere ha ripreso dove si era fermato. Gli uffici comunali, appena avute le carte, hanno avviato i controlli sulle ditte mentre l'ATI ha messo in atto tutti i provvedimenti per la messa in sicurezza del cantiere. Ancora non si conoscono i tempi di consegna ma l'avere ripreso le attività di certo è una buona notizia visto che si tratta di un progetto finanziato per 37 milioni di euro tra privati, fondi POR, FESR ed il comune di Battipaglia che ha anche cedute immobili del patrimonio. La sua realizzazione cambierà il volto della città specie nell'area della stazione dove nascerà un fabbricato per i viaggiatori, un edificio pubblico, un terminal bus con parcheggi ed un nuovo parcheggio in piazza Farina e la sistemazione del piazzale.